come stai manessa? male! cosa ti fa male amore? la gola! ti fa male la gola? si! aspetta, stai ferma, vediamo quanto è alta la febbre? 38 e 6? si! no! ma tu scocci! veramente? si! e non ti potrò portare a scuola con questa febbre, lo sai? no! e dovrei stare a casa oggi? no! si amore, ma non ti preoccupare c'è la Erika che avrà cura di te, ok? si! perché io devo andare via, ho impegno di lavoro non ti preoccupare, vedrai che Erika avrà cura di te, sarà la tua dottoressa per 24 ore, ok? va bene amore, farai la brava, mi prometti che farai la brava bambina? si! ok! la mamma ti dà un bacino e ci vediamo, ci sentiamo al telefono, ok? si! amore cosa stai facendo? sto guardando a Tom e Jerry! bello! anch'io da piccolina guardavo quel cartone, lo sai? anche amore, devo uscire per un po', tua sorella non sta tanto bene, lo sai, ha un po' di febbre e tu dovrai avere cura di lei per tutto il tempo che io sarò via, va bene? bene! devi venire presto o tardi? cioè, provo a venire più presto possibile, amore! vieni, vieni qua che ti faccio vedere tutta la medicina che le deve dare, ok? va bene! guarda, qua c'è il miele, le dovrai dare tre cucchiaini in un giorno, ok? dopo c'è il termometro e dovrai misurare la febbre sì, è una soglia! 6-7 volte al giorno, mi raccomando, 6-7 volte sempre le dovrai misurare la febbre, dopo c'è il sciroppo, ecco è questo, guarda, ti dico, questo è il sciroppo per la febbre, se ha la febbre, gli dovrai dare 5 mele, ok? ogni controllo! con questo! con quello, sì! e dopo il sciroppo per la tosse, se la vedi che comincia a tossire, gli dai il sciroppo per la tosse e dopo questo lo dovrai mettere dentro, sì, di là, guarda lì, nella aerosol! e guarda i più forti qui, dai un po' più piano! eh sì, sei molto brava perché tu hai fatto tante volte l'aerosol! e dopo dovrai pulire anche il suo masino! eh sì! se hai il naso chiuso lo devi pulire, va bene? e là, cioè, sono i vostri giocatoli così, i giochi con le e questo è il nostro giocatolo per aprire la bocca! ecco, ecco, mi chiama, mi chiama la Vanessa, vado a dargli un bacino ancora, sì, vado a dargli ancora un bacino e tu, aspetta, ho dimenticato una cosa, ti dovrai mettere questa camicia! va bene! dai, un bacino, dai, ci vediamo presto, ok? va bene! ok, ciao amore! ciao! ciao amore! ciao amore! ciao amore! allora, adesso dobbiamo scontare il cuoricino, dobbiamo usare la febbre se lo faccio! guarda! ecco amore! si! tutto bene il cuoricino! Allora, adesso dobbiamo musolare la febbre, ecco, anzi la mano in su, scudi, vediamo, scotti però, vediamo, veramente stai male, vado a prendere il sciarroppo per la febbre, quella è la, mi sto proprio a febbre, ah, è questa, ecco, vieni, è il gusto di fragola, lo apriamo, perché c'è l'acqua, è nuova, non è nuova, ecco, basta, no, vediamo che è il gusto, vediamo che è il gusto, vediamo che è il gusto, no, anzi stai qua, gioca, ma io vado a prendere il miele, va bene? Sì, la muoviti, va bene? Ecco, questo è il miele che fa bene la salute. E' pochino, prendi, prendi quanto vuoi, Anessa, prendi quanto vuoi, prendi tu. Acqua, acqua, acqua. Va bene, vado a portare acqua. Tieni acqua. Se vuoi, ancora, è qua. Adesso dobbiamo prendere... Allora... Aspettami qua, non muoviti! Ecco, ho preso. Medicina. Sì, è la medicina. Ancora medicina? Meglio di no, la medicina. Cosa portare la frutta? Manessa, ecco, ho portato la mela, mangiamo insieme, fa bene la salute e ha tante vitamine. Dopo mettiamo un cerotto, va bene? Adesso mangiamo la mela. Mmm. Ecco, Vanessa. Sono arrivata. Dove è stato? Vanessa? Israietti che vengo con... L'ora sono. Ecco. Dovevo mettere solo la metà. Ecco. Abbiamo messo la metà. Adesso basta. Aspetta, aspetta. Vai, Vanessa. Dai, Vanessa. 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 Mi dammi. Vanessa, dopo vuoi giocare? Sì. Guardate bene. Guardate bene. Guardate bene. Dai. Dai. Guardate bene. Dai, Vanessa. Vanessa, non giocare, che questo non è un gioco. Ma voglio la faccio io. Faccio io. Ecco, basta Beppe. Finita. Eh sì. Dobbiamo lavare il nasino. Dai. Puoi ancora? Dai. Dai! Dai! Dai tanto! Non tanto! Non tanto! Ancora? Non tanto! Poco! Ok poco! Ancora? Poco poco! Ancora vuoi? Poco! Voglio poco dai! Vi un pic pe pastic pe pastic de verești Va be! Poco! Poco! Dai! Poco! poco 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 fai poco ok ok Erika Erika ok fai poco no basta adesso adesso ti curiamo con questo prima dobbiamo tagliare le unghie ecco questo lo abbiamo fatto questo lo mettiamo qua e gli occhiali non ci serve adesso guardiamo il dentino se era cresciuto se stanno bene o no no lì sopra è rotto dobbiamo aggiustarli allora girocchio vieni qua seduta in qua qua vicino e dopo devi manzarlo e manzarlo e manzarlo quando faccio così va bene non questo non questo ecco ma questo che cos'è è peperi ecrè vediamo se questo funziona o no è peperi i denti no questo non hai buco va bene è peperi i denti così ecco adesso guardiamo i denti no apri la bocca che dobbiamo farli lì sopra ecco vieni Vanessa che dobbiamo fare la mamma Vanessa Erika sono arrivata mamma 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 amli